Da lunedì, dopo quasi 50 giorni di restrizione in zona rossa, la provincia di Pistoia torna arancione. Notizia che riempie di ottimismo. I numeri dei positivi sono scesi e la pressione sulle strutture ospedaliere sta calando. Ma le persone sono più ottimiste o più impaurite? Per me era da fare rosso e rafforzato. Parlo di Pistoia, non della Toscana, ma visto come è messo l'ospedale di Pistoia, che è andata anche sulle reti nazionali, ci hanno visto tutti, perché i vaccini specialmente che sono fermi, io la lasciavo rosso e la rafforzavo. Meno male, riaprono i negozi, soprattutto le farrucchiere. Siamo più contenti, più contenti, avanti tutto. Se tutti rispettassero le regole sarebbe perfetto. No, no, non sono preoccupata, sono contenta. Se tutti rispettano le regole credo che non ci siano problemi. Assolutamente più contento, anche alla zona gialla se si potesse. Più positive, assolutamente. Bisogna essere positivi. Non è possibile andare avanti così. Queste chiusure sono evidentemente un metodo non adeguato, perché è una vita che siamo chiusi, i contagi continuano. La strada per correre è un'altra. Vaccinare con criterio, come ha fatto la Toscana fino ad ora. Speranza che la gente si comporti per benino. Molta attenzione ancora, perché se questi vaccini non ci sono, si va poco lontano poi, per fare una riapertura. Contenta perché è un po' più di libertà, però attenzione, perché è un secondo. Se hai visto la Sardegna è il risultato, da bianca è passata a rossa. L'unica notte stiamo attenti perché è un secondo. Un giorno dopo si scordano sia i negozianti che le persone di avere tanta attenzione. Direi anche in zona bianca per ricominciare a vivere un pochino, con attenzione, con precauzioni. In essere positivi. Dobbiamo ripartire e stare molto attenti, questa è la cosa principale. A livello lavorativo spero che migliori qualcosa, ma finché la città è in questa situazione sono preoccupata. Quindi la zona arancione ti fa paura? Sì, a livello commerciale sono più contenta perché ovviamente la via degli orafi si riaccende. Però se la situazione sanitaria è questa, come si fa a essere tranquilli? Sono un po' più preoccupato perché le cose comunque sia, non credo che stanno andando molto bene. Più responsabilità da parte dei cittadini e più chiaramente si riesce a tenere lontano il problema.